Ciao ragazzi sono Ippodegliandelli Io ho messo dentro perchè mi andava oggi Un vero un po' Pagliamo su qui Su qui cos'è su qui E niente Siamo del modello Magical powers Ok Ma benissimo Quindi dovrei avere Io vorrei il potere Della natura O del fuoco Eh questo è figo Ok me lo faccio dal fuoco Dove sto andando un po' Allora Il rosso fuoco Va benissimo Questa mi serve Ok Quello che non è umano che non mi copia Faccio 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 Scusate sono io Ecco l'incarica Tardi Sì Mmm Una cosa Da No 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 Vabbè Ne mettiamo un'altra Questo Ecco Con la stellina Non mi sembra Una fana Fa del fuoco Una cosa del fuoco Rossa Tipo Oh Questa connellina Ehm No la vorrei cambiare Di questo colore Non mi piace Rosso Rosso Don Non me la cambiate E' schifo Aiutami questo Don Ecco Noi scegliamo il dorso Mmm Una bella scelta Non sono parecchie Ma non vedo qualcosa di rosso Mmm Ma andai scegliere bene Un rossetto Un rossetto Un rossetto Oh da paiana c'è Questo Carino E E ora Boh Vediamo Le ali Le ali Devo spiegarmi Non è che ho tutto questo tempo No le cuffie non mi servono Ehm Le ali Le ali Non sembra proprio magica Perchè non mi importa Questi sono le ali Olì Olì Vediamo le ali Allora le ali Allora le ali Queste Oh Che figa Ora vediamo cosa posso prendere Magari cambiammi la faccia Eh Non mi sembra quanto da fuoco Guardate io Ho un fuoco da fuoco Oh Una Ma neanche per sogno questa qui Perfetto Sono pronta Eccomi Con questa cosa Non mi sembra Non mi sembra Non mi sembra Non mi sembra Sono blu Ho gli ali da blu Sono una perfetta blu Perchè 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 Sox Perchè 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 bigli Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 la vedo in esso, una strega prima vabbè, la seconda ci vuole anche, sai, la giro, sì, prima c'è una magic palace vabbè, sì, va a concludere così, bye bye